Buonasera, ben ritrovati al nuovo appuntamento con Qualazampa. Parliamo di una razza di cani da caccia, è il Bracco tedesco a pelo corto, meglio conosciuto come Kurzar. È un cane proveniente dalla Germania che è utilizzato principalmente come cane da ferma, viene comunque utilizzato nelle varie attività di caccia. La storia del Bracco tedesco a pelo corto risale proprio all'utilizzo, soprattutto nelle nostre regioni, regioni mediterranei, dei cani per la caccia con le reti a selvaggina da piuma e con la caccia con il falco, tecniche primitive di caccia comunque quando ancora le armi non funzionavano. Quando poi sono stati sviluppati i vari fucili, soprattutto quelli a due colpi, intorno al 1750, il lavoro del cane da ferma è diventato molto più importante. Quindi lo sviluppo di questa razza è sicuramente stato incrementato, sviluppato e migliorato. Il Bracco tedesco oggi è proprio selezionato, è proprio un elaborato regolamento che distingue proprio le varie caratteristiche, sia comportamentali con delle prove di lavoro che anche proprio morfologicamente come definito proprio da questo regolamento. Per farvi capire è un cane molto elegante, la costituzione sicuramente assicura della potenza, resistenza e velocità. Ha un comportamento fiero, è sempre molto ubbidiente, comunque molto nobile nel suo aspetto e è proprio equilibrato, affidabile e ha proprio reazioni controllate, non è generalmente nervoso, timido o aggressivo. È sicuramente un cane polivalente, quindi può essere utilizzato nelle varie attività da caccia e la sua caratteristica è proprio essere un cane da ferma, quindi individua la posizione della preda per cui lo indica e aiuta il cacciatore proprio nella caccia. È sicuramente comunque un cane che può servire da compagnia, anche un pochino da guardia perché sicuramente è un cane equilibrato. Bene, a proposito di cani, vi ricordo che questo fine settimana, in particolare domenica, a Castione della Presolana potrete assistere a una esposizione canina organizzata dalla locale Associazione Cacciatori dove potrete ammirare varie razze, non solo cani da caccia ma tantissime razze anche da compagnia, dai Jack Russell, Bassotti, Barboncini, sicuramente Labrador e Retever, tutti i cani utilizzati nelle varie attività e potrete ammirarli proprio domenica all'esposizione canina a Castione della Presolana. Bene, per questa sera è tutto, vi do appuntamento a settimana prossima, arrivederci! Grazie a tutti!